Per anni faceva pascolare i suoi animali nei terreni del vicino, invadendoli illegalmente, danneggiandoli e impedendo al proprietario delle campagne il passaggio sui suoi stessi terreni. E quando accertato dai carabinieri che a Monte Sant'Angelo hanno denunciato un agricoltore che dagli investigatori è ritenuto vicino ad una delle famiglie coinvolte nella faida del Gargano, la guerra tra le famiglie del Promontorio, nata per abbigeato e poi trasformatasi nel corso di decenni in lotta per il controllo del territorio e dei traffici illeciti. Nel corso dell'operazione gli investigatori hanno anche sequestrato 79 animali tra bovini, ovini e caprini considerati lo strumento per commettere il reato. Secondo quando accertato dai carabinieri la vittima ha vissuto una vera persecuzione da parte del suo aguzzino che lo ha condotto via via a mutare le sue abitudini di vita, a vivere in un continuo stato d'ansia e di paura e a subire continui danneggiamenti e sconfinamenti. Un'escalation destinata a proseguire con condotte estorsive sempre più minacciose e tipiche di chi vuole imporre, proprio come si faceva una volta, il controllo criminale del territorio per impossessarsi per sempre e gratuitamente di quei terreni dove gli animali, appartenenti e esponenti dei clan criminali, vengono lasciati pascolare allo stato brado senza problemi di confini, di invasioni, di danneggiamenti e imponendo così la propria supremazia. Oltre alle minacce di morte, alle aggressioni, alle condotte estorsive e sopruse alle offese, alle aggressioni fisiche e verbali e continui atti persecutori, la vittima, avrebbero accertato ai militari, è stata anche travolta da un'automobile condotta dal suo stesso aguzzino, riportando delle ferite alla gamba e preso abbastonate nella stessa circostanza. Dopo la denuncia della vittima, i carabinieri sarebbero riusciti a documentare così innumerevoli episodi di invasione dei terreni confinanti da parte dei bovini riconducibili attraverso accertamenti sulle marche auricolari applicate alle orecchie del bovino a due aziende agricole riconducibili a familiari esponenti di uno dei clan del gargano e condotti dall'indagato. Nel corso della perquisizione quest'ultimo è stato trovato anche in possesso di una pistola illegalmente detenuta e pronta all'uso.